In prima visione assoluta, tratto da una storia vera. Un attentato al Führer a Monaco. Una bomba. Alto là! Dove sta andando? Lo ha mancato in 13 minuti. Quello stupido falegname vuole farci credere di non avere complici. Non avrebbe mai potuto costruire da solo una bomba così potente. Elser, questa è la sua ultima occasione per dire la verità. Se l'uomo perde la libertà, finisce per morire dentro. Elser, 13 minuti che non cambiarono la storia. Venerdì alle 21.05. Rai 2